Ciao a tutti, ciao a tutte e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a preparare i tortellini fatti in casa con la pasta fresca all'uovo. Questa ricetta è molto semplice e ovviamente è indicata anche per le festività che stanno per arrivare quindi vi invito tutti quanti a voi di prepararla. Mi raccomando, seguitemi sui social e allora su Instagram mi potete trovare sulla Cucina di Maria Official mentre su Facebook è la Cucina di Maria. E se vi fa piacere potete anche iscrivervi, scusate, al mio gruppo di ricette. Condividi le tue ricette con Maria e vi aspetto sul mio nuovo blog dove troverete tutta la raccolta di ricette che ho fatto in tutti questi anni. Vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! 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 ! ! ! ! !